Ma le sensazioni poi di vincere lo scudetto sono poi le stesse sensazioni che si hanno nel momento in cui si va a ricreare una situazione di vittoria che poi ti porta ad entrare in quelle che sono poi delle dinamiche in cui poi il vincitore non si sente più vinto e quelli che poi non hanno vinto si sentano inferiori a quelle che sono poi delle aspettative che si sono inevitabilmente andate a ricreare. Questo è stato poi uno scudetto che è sicuramente una bella soddisfazione non soltanto per me ma per tutto quello che è stato poi l'ambiente in tutte le sue sfaccettature e poi si vanno a delineare delle cose che poi la gente e poi i calciatori e poi tutti quelli che hanno elaborato poi diventa un premio. Ma se a me chiedete poi qual è stato il segreto di questa vittoria, non ci sono segreti nelle vittorie. Nelle vittorie ci sono solamente storie di uomini, storie di situazioni, storie di energie che si vanno poi a creare e che poi metti poi tu in campo e le vai a far maturare in quella che poi diventa un qualcosa che poi va a creare quella tipologia di vittoria. Questo è il significato che poi si va a dire se poi vogliamo dare un significato a quelle che sono poi delle situazioni che si sono create e poi si è andato a vincere.